Giovinezza, qualità e voglia di stupire, questo il trinomio degli uomini di Bonati per continuare il processo di crescita. Esperienza e voglia di recuperare punti dall'altro fronte, quello di mister Torti e la sua troupe. Al San Marco di Pescara il Delfino Flacco Porto e Avezzano si contendono punti preziosi nella decima giornata del campionato di eccellenza. Bonati si affida al 4-1-4-1 con Marzucco e Di Federico sulle fasce a sostegno di Petre. Torti risponde con un 4-2-3-1, pendenza inizialmente in panchina, spazio a Spinola e Blanco. Delfino che parte benissimo all'ottavo colpo di testa di Petre, grande la risposta di Girolamo. Poi al 14esimo Portuali che richiedono un penalty per il contatto Laguzzi planamente, solo angolo per Marchetti dagli sviluppi. Ancora un ottimo intervento dell'estremo ospite sul colpo di testa di Stefano Albanese. Poco più tardi Marzucco si apparecchia un gran pallone, tiro al volo e per poco c'entra il bersaglio grosso. L'Avezzano non riesce a reagire al 27esimo, Tine Morici prova in gioco aereo, palla out. Poi Brattelli con un tiro cross a spaventare di Girolamo, palla alta. Nella ripresa cambiano faccia gli uomini di Torti che nel giro di pochi minuti creano tantissimo. Al 12esimo cross di Laguzzi per Blanco che si gira dall'area piccola ed incrocia che risposta di calore. Poi ancora l'Argentino a provarci con un colpo di testa fuori bersaglio. Il Delfino non ci sta al 18esimo, Gobbo non trova però lo specchio. Il finale è tutto di Marca Vezzanese. Gran boli del volo di Besana. Ancora una volta prodigioso l'intervento risolutivo dell'estremo locale che al 24esimo spera che il tiro di Spinola non termini in rete. Ed è così perché il palo ha negare la gioia del gol al numero 10. Numero 10 che ci prova con un tiro cross dal fondo. Palla che sfila lungo tutta l'area e termina sulla sinistra della porta difesa da calore. Termina dunque così. Pareggio a reti bianche per il Delfino Avezzano, entrambe inconcludenti ma che ci hanno fatto davvero divertire in questo mercoledì di festa.